Colpo su colpo sta nascendo il nuovo Lecce. L'ultimo è l'arrivo di Bellazzini. Il laterale, svincolatosi dal Vicenza, indosserà la maglia giallorossa cercando di rivalutarsi dopo le promesse delle passate stagioni con la maglia del Cittadella. Bellazzini è un esterno duttile, ma all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di trequartista. In arrivo sembra esserci anche un ex giallorosso, Gennaro Del Vecchio. Il centrocampista barlettano se ne andò un anno fa in Serie B al Grosseto dopo la mancata permanenza in A dei leccesi e guai giudiziari che fecero retrocedere il Lecce in Lega Pro. Il nuovo tecnico del Lecce, Moriero, lo ha allenato a Grosseto e conosce bene le qualità del mediano. Con la società toscana sembra sia stato messo in piedi uno scambio tra Del Vecchio e D'Ambrosio, ma il difensore giallorosso non è ancora del tutto convinto della prossima destinazione. Lo stesso difensore, prelevato lo scorso gennaio dal Lumezzane, si era detto entusiasta di rimanere in giallorosso e poter così convincere tutti delle proprie qualità. Intanto si è aggregato al gruppo Gilberto Martinez. Il difensore costaricano ha firmato un accordo con il Lecce per altre due stagioni e ora lavora con vecchi e nuovi compagni nel ritiro di Villa Grande di Monte Copiolo. In questi giorni ci potrebbero anche essere delle partenze, come quella di Mino Chiricò. Sull'attaccante giallorosso si registra l'interesse di Parma, Cagliari e Palermo. Antonio Tesoro, responsabile dell'area tecnica della società leccese, sta valutando attentamente tutte le proposte, attesa anche per Filippo Falco, sul quale è sempre vivo l'interesse della Ternana. Non è escluso uno scambio con Carcuro, centrocampista che a Moriero piace molto. La società leccese potrebbe dare in prestito il gioiellino di Pulsano e farlo crescere in campionato di Serie B. Dopo il dibattimento per l'inchiesta sul calcio scommessa, intanto è rientrato in gruppo il portiere Benassi, il quale aveva ottenuto un permesso dalla società per recarsi a Roma davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Il portiere è sul mercato, ma il processo sportivo ed una eventuale squalifica renderebbero difficile la sua partenza. Intanto il Lecce per la prossima stagione ha scelto un nuovo numero uno, si tratta di Filippo Perucchini, proveniente dal Milan. L'estremo difensore lo si potrà vedere all'Opera Sabato nel corso della prima uscita ufficiale contro una rappresentativa locale.